Allora... Aspetta, aspetta... Ah, vai... Vino 10 Corona... Questa è l'Ona Franca della Florio Pallo vino dell'anno... Vini buoni di Italia Anche l'anno scorso l'abbiamo coronato Pallo vino dell'anno Mi piace moltissimo, è un successo anche di pubblico notabile E così ammettiamo anche il Marsala E' nato E' nato proprio con questo scopo Andiamo a segnare su Marsala sul repubbolo di questa televisione E' Marsala che per il nostro romino E' una bella idea, bravo Luciano Mi sei piaciuto Grazie Ascidiamolo Siena 11 Questa è il Marsala Ad ergine di Pellegrino Siamo andato anche... Una grandissima azienda Che fa pure... Di livello base Siamo contenti che l'abbiate coronato Perché ci hanno mandato anche una riserva 62 Che era però molto più difficile Quindi abbiamo preferito portare questa Alla portata Alla portata